E' stata presentata l'attività di monitoraggio della qualità dell'aria nel comprensorio di Avellino con un focus specifico sulla località Pozzo del Sale, punto sensibile dell'Interlanda vellinese compreso nell'area industriale di Avellino Piano d'Ardine che ricade nel territorio comunale di Grottolilla. Sappiamo che nell'area vellinese c'è una problematica di polveri sottili che visto il fatto che comunque le polveri rimangono abbastanza lunghe in atmosfere c'è il rimescolamento, alla fine troveremo condizioni di inquinamento simili. Vi do anche il dato di Grottolilla, attualmente l'area per la nostra fortuna è del tutto ripulita perché c'è stato il passaggio nel fronte perturbato, addirittura polveri sottili PM10 sottili 10 a valori di 2-3 però se già andiamo a vedere la giornata di ieri, noi siamo rimasti entro i limiti con un valore di 37 microgrammi metro cubo a fronte al limite di 50 qui a Grottolelle, però la cosa molto interessante è che le due stazioni di Avellino erano rispettivamente a 36 e 38 microgrammi, quindi valori completamente allineati. Più sono articolate e capillari le campagne di monitoraggio più noi siamo in grado di mettere a disposizione delle autorità competenti degli enti locali, degli enti territoriali, gli elementi di conoscenza necessari e propedeutici all'attivazione delle misure e degli interventi. Noi su questo argomento dell'ambiente ci stiamo dedicando da diversi anni, abbiamo impegnato molte risorse dal punto di vista dei nostri bilanci e ovviamente abbiamo bisogno della collaborazione di enti, di organismi e agenzie sovraccomunali. Questa zona che ovviamente da decenni è martorizzata, è martoriata a tutti i livelli, non dimentichiamo che qui ci sono insediate, fino a poco fa c'è stata anche la Novo Legna, sono state insediate, sono insediate fabbriche molto inquinanti. Abbiamo avuto un incontro proprio in questi giorni con l'architetto Pisano, il presidente dell'Asi e col quale abbiamo concordato una variante al PRG dell'Asi che vede esclusa quest'area a Nocelleto completamente dal nuovo piano regolatore che è in fase di redazione. Tutta quest'area che lei vede, dove siamo proprio adesso, è un'area prevista nel vecchio piano Asi e noi stiamo facendo tutto il possibile per eliminarla. Come si suol dire, quest'area già ha dato. È inutile che andiamo, va solo gestita con attenzione la riqualificazione.